La caduta di una porzione della parete posteriore del Duomo ha portato qui a Città di Castello numerosi personaggi appunto per rimetterla in sano. Qual è stato il motivo di questa caduta secondo le ricostruzioni di voi tecnici e architetti? Credo la vetustità. È riferibile questa espulsione di materiale al fatto che per anni e anni non si sono fatti interventi di manutenzione. Noi abbiamo escluso subito in prima battuta l'aspetto dell'infiltrazione dell'acqua perché non risultano motivazioni di questo tipo. Quindi ritengo che possa essere la vetustità il fatto come le dicevo che non ci sono stati nei secoli interventi di manutenzione e l'espulsione del materiale è venuta di conseguenza. Una giusta manutenzione avrebbe potuto evitare questa caduta che fortunatamente non ha provocato feriti? Assolutamente sì perché come vedete il paramento è in arenaria e l'arenaria è un materiale tra virgolette assolutamente deperibile negli anni. Quindi se vi fosse stato un intervento di manutenzione anche programmata negli anni sicuramente non saremmo arrivati a questo crollo. A chi sarebbe aspettato fare questa cosa? Guardi credo che attiene all'impostazione tra virgolette del Paese. Il Paese dovrebbe sui monumenti fare operazioni di manutenzione. Gli uffici periferici della soprintendenza hanno sempre meno personale però ecco quello che possiamo fare lo facciamo siamo subito intervenuti. Però torna a ripetere occorrerebbe un piano di manutenzione. Un po' quello che si sta dicendo oggi per le strade e per i ponti. La stessa cosa dovrebbe essere fatta per i monumenti. Ora partiranno i lavori. C'è un iter particolare. Come affronterete la questione e i tempi? Diciamo che come soprintendenza abbiamo già predisposto tutto l'aspetto burocratico e amministrativo e anche l'importo preciso di lavori da effettuale e realizzare. Il problema è che dovremmo avere il nulla osta dalla direzione generale bilancio di Roma. Nel momento nel quale arriva questo siamo subito pronti per intervenire dal minuto dopo. Più o meno come verrà realizzata la messa in sicurezza e la realizzazione del lavoro? Adesso per quanto riguarda la messa in sicurezza porremmo un tavolato tra le due finestre sulla superficie che è stata interessata dal crollo. Poi l'intervento, come dicevo, sarà del ponteggio che consentirà su tutta la superficie murata di vedere anche le altre parti in che condizioni sono. Poi per quanto riguarda l'intervento del collo faremo un'operazione di cuci-scuci con cocci in arenare che verranno ancorati alla muratura esistente con perni di acciaio. Architetto, l'ultima domanda. Il Duomo è di proprietà della Chiesa. Chi paga il lavoro? Come le dicevo prima, non avendo i fondi la diocesi di Città di Castello, che peraltro già sta operando sulla facciata principale, si sostituisce lo Stato. Grazie a tutti.